Mi ricordo il giorno primo aprile 1984. Iniziava un'avventura per la UISP in Vivi Città. Una manifestazione che prendeva tutta l'Italia, 20 città in contemporanea, alla partenza. E la radio che dà il via. Pronti, partenza, via. E tutti gli atleti vanno verso un traguardo. Bellissimo, non solo perché ci sono grandi atleti con grandi nomi, ma famiglie, bambini e tutti si divertono perché è questo che deve accomunare lo sport. È stata una giornata fantastica perché in quell'occasione anch'io, nel mio piccolo, sebbene uno è grande atleta, ma con la passione sfrenata per la corsa, sono arrivata tra le prime assolute. E quindi ancora oggi, dopo 40 anni, è un ricordo indelebile, magnifico, che sicuramente mi accompagnerà per sempre perché oggi aver ripotuto con l'emozione far riemergere quei ricordi è stato bellissimo. E io auguro a Vivi Città e alla UISP gli auguri per questi 40 anni, ma di continuare così con questo stesso intento e questa stessa passione che unisca tutti. Auguri, Vivi Città, buon compleanno! Grazie a tutti! Grazie a tutti!